Capitolo 23 Autostop La giornata era cupa, il cielo coperto da nubi bronze. Lui stava seduto su uno sdraio da spiaggia sotto l'enorme ulivo che poco più di cento anni prima il bisnonno aveva piantato nel suo cortile. Proprio nel punto in cui un secolo dopo si sarebbe affacciata all'unica finestra della sua cameretta. Un forte maestrale squassava i rami, strappandone manciate di foglioline grigio-verdi che scendevano volteggiando intorno alla sua testa. Si rese conto all'improvviso di avere un libro aperto sulle ginocchia nude, le quali recavano ancora i segni di una rovinosa caduta dal motorino. Nell'atmosfera rarefatta di quel sogno matutino echeggiava una voce strozzata, una voce che non aveva niente da spartire con quell'ambientazione, ma che tuttavia era presente in esso. La voce rintronava nel nucleo addormentato della sua mente e, a intervalli irregolari, modulava parole incomprensibili con tono indifferente. A ogni ripetizione la frase si allungava. Tu parli troppo qui. Il sogno proseguì e la voce tacque. Il libro! Non riusciva proprio a ricordarne il titolo. Forse non l'aveva mai saputo, o forse quel libro non aveva mai avuto un titolo. Incuriosito da quell'originale bizzarria, chiuse il libro e ne fissò alla rigida copertina. Non c'era stampato nulla. Era bianco. Di nuovo la voce. Tu parli troppo qui dietro. Di nuovo il silenzio. Il sogno si focalizzò ancora sul libro. Perché quel libro non aveva titolo? Dopo qualche tempo decise che non gli importava. Non era un particolare importante. Anzi, era addirittura assurdo assillarsi con quell'interrogativo. Nei sogni le cose strampalate abbondavano. Alzò lo sguardo e fissò la nebbia grigia che lo circondava. Appena sollevò gli occhi da quel libro, in lontananza si udì lo squillo di un telefono. E calamitò immediatamente la sua attenzione. Lo squillo sembrava fuori posto nell'atmosfera tranquilla e silenziosa, a parte la voce in cui si trovava. Fuori posto come qualcosa di reale. Comunque sia, voce o non voce, quello squillo c'era stato. E non era rimasto isolato. Si mise il libro sotto il braccio e si alzò dalla seggiola. Gli ultimi squilli erano stati più forti e acuti. Silenzio. Silenzio. Frattanto il seggiolino da spiaggia era scomparso nel nulla. Il secolare olivo si disgregò nella caligine. La voce cheggiò di nuovo, come il rombo di un tuono. Tu parli troppo. Qui dietro qualcosa che... Silenzio. Anche il cortile, coperto di erbacce e vecchi giocattoli rotti, svanì. Restava solo il fantasma bianco e fluttuante della nebbia. Alessandro si svegliò. L'allarme della radiosveglia arronzò per l'ennesima volta. Quel brusio acuto non assomigliava per niente allo squillo di un telefono, ma, si sa, i suoni esterni vengono sempre trasformati dal subconscio durante il sonno. È un fenomeno comunissimo. Dopo essersi agitato tra le lenzuola sudate e aggrovigliate, Alessandro allungò un braccio intorpidito sul comodino. A tastoni riuscì nell'impresa di bloccare l'allarme della radiosveglia. Dopo aver dormito per almeno otto ore di fila, si sentiva ancora esausto, i muscoli delle gambe stirati e le ossa a pezzi. Giocare a calcetto per tutto il pomeriggio del giorno prima era stato bello, ma eccessivo, soprattutto per un rachitico secchione quattro occhi come lui. Alessandro aprì un occhio, ma questo era così pieno di cispa che non distinse nulla, oltre a una bauluginante nebbia latiginosa. Batte ripetutamente le palpebre piccicose, poi si sfregò energicamente gli angoli degli occhi con il dorso delle mani. Dopo alcuni secondi di parziale cecità, arrivò a focalizzare lo sguardo sul display luminoso della radiosveglia. L'ora esatta era indicata con numeri digitali verdi, 0704. Quando realizzò il significato di quei numeri, Alessandro sobalzò sul letto tiepido. «Porca! Oggi perdò l'autobus!» Sgusciò via dalle calde coperte. Sotto i suoi piedi nudi il pavimento era come di ghiaccio vivo. Raggiunse con un balzo l'interruttore sulla parete di fronte e accese la luce. Dopo un lungo sbadiglio infilò un paio di zoccoli e si trascinò fino al bagno. Meno di venti minuti per prepararsi e filare via di corsa. Alessandro aveva 16 anni e frequentava brillantemente, secondo i suoi genitori, il terzo anno del liceo scientifico. Ogni mattina, da lunedì al sabato, doveva recarsi all'unica fermata dell'autobus che quotidianamente lo raccoglieva dalla piazza di Solus e trasportava fino alla vicina cittadina di Sant'Antioco, dove sorgeva l'istituto a cui si era iscritto. Era un viaggetto di soli 15 chilometri e 15 minuti. Ad Alessandro non piaceva fare il pendolare, anzi lo infastidiva molto, ma non poteva fare altrimenti. Era destino. I genitori lo consolavano ribadendogli che la condizione di pendolare, come il servizio militare, temprava lo spirito. E forse non avevano tutti i torti, per quanto lui odiasse entrambe le cose. Uscì dal bagno, dieci minuti più tardi, lavato, pettinato e con una leggera pellicola di gel sui capelli. Era ancora in boxer, però. La casa era silenziosa e piena di scricchioli. I suoi genitori dormivano ancora. Alessandro era figlio unico. Ritornò in camera. Si vestì in fretta, infilò i suoi levis preferiti, la felpa bianca by American alla moda, un paio di calze in spugna pulite, le solite sisle scolorite, con la suola un po' consumata sul bordo. Andò in cucina, dove si preparò una veloce colazione a base di latte fresco intero e biscotti e cereali. Dopo aver consumato la frugale colazione, schizzò in camera, dove raccattò lo zaino invicta e se lo gettò alle spalle. Come era sua abitudine, aveva preparato lo zaino la notte precedente, per guadagnare alcuni minuti la mattina. Era un ragazzo assennato. Nell'ingresso appoggiò lo zaino sul pavimento e, dopo aver staccato il classico Montgomery della Taccapanni, lo infilò con pochi movimenti automatici. Si guardò allo specchio e sorrise. Era pronto. Quando uscì di casa, correndo, alle sette e mezzo del mattino immergendosi in una pioviginosa foschia, Alessandro sembrava esattamente quello che era. Uno studente liceale, media statura, magro, capelli neri e lisci, pettinati all'indietro, un viso imberbe dai lineamenti anonimi. Corse a perdifiato per la via deserta, dalla bocca, semichiusa, gli fuoriusciva a intermittenza una nuvola di vapore. Alessandro abbassò preoccupato lo sguardo sull'orologio che aveva al polso. Il quadrante dello Swatch, regalo di compleanno dei compagni, indicava le sette e trentasei passate. Scosse la testa, sbuffando un candido pennacchio. Sapeva di essere in ritardo, ma sapeva anche, per triennale esperienza, degli enormi ritardi con cui quotidianamente il famigerato autobus delle 8-20 si presentava alla fermata. Sì, forse ce la faceva. Certo, come no. Una volta, più precisamente il lunedì della settimana passata, l'autobus era arrivato alla fermata con 15 minuti di ritardo. In quell'occasione l'autista rischiò il linciaggio da parte di alcuni operai. In compenso venne ringraziato dalla maggior parte degli studenti pendolari che, grazie a lui, avevano avuto una buona scusa per saltare la prima ora di lezione. A rassicurarlo c'era anche la consapevolezza ancestrale che, finché in Sardegna gli autobus arrivavano in ritardo, tutto quanto era normale. «Quando gli autobus arriveranno in orario, la fine del mondo chiuderà il sipario», così ripeteva la popolazione. «Autobus era sinonimo di ritardo, una coppiata inscindibile». Con questi allegri pensieri nella testa Alessandro aumentò la velocità. L'aria gelida gli pungeva il viso, i polmoni si gonfiavano, lo zaino saltellava sulla schiena e le suole battevano sull'asfalto bagnato sollevando schizzi d'acqua grigia. Durante la notte c'era stato un violento temporale. Ai lati della strada i canali di scolo erano pieni di acqua limacciosa. Il cielo sopra il paese era color piombo, come nel suo sogno, carico di umidità ed elettricità. «Questa sera si scatenerà una vera tempesta», pensò. Le strade secondarie di Solus erano deserte. I lampioni erano ancora accesi e tingevano di giallo le pozzanghere che coprivano vasti tratti della via. Si vedeva più acqua che asfalto. L'unico rumore era il ciaff-ciaff delle sue scarpe. Le foglie, degli anemici alberi sempreverdi che circondavano la piazza, stormivano, coperte di gelo, sotto le glaciali frustate della tramontana. La piazza, un enorme squallido rettangolo lastricato di granito, circondato da terribili panchine verdi, quella mattina aveva un aspetto più triste del solito, triste ed esolato. Al centro, l'enorme statua di bronzo, raffigurante San Giorgio a cavallo nel momento in cui trafiggeva il drago, si stagliava contro l'imponente marmore affacciata, finto rinascimentale, della chiesa patronale. Nell'angolo più lontano della piazza, quella che dava sul corso Savoia, sopra un sottile palosbilenco, c'era un piccolo rettangolo azzurro striato dalla ruggine russiccia. Nel cartello, a cubitali lettere bianche semicancellate, vi era questa scritta, FMS, fermata autobus. Intorno al cartello non c'era nessuno. Alessandro, sconcertato, si portò lo swatch sotto gli occhi, le 7.42. Accidenti! L'autobus era già passato, altrimenti la fermata non sarebbe stata vuota. A solo se c'erano almeno 15 studenti pendolari. Già passato. Un miracolo. Perfetto orario. Forse in anticipo. Incredibile. La fine del mondo vicino, riflettè ironico Alessandro. Ralentò la corsa fino a fermarsi con il fiatone e la lingua fuori come un cagnolino accaldato. Dopo aver meditato alcuni secondi, sollevò il colletto del cappotto e sfregò con forza le mani intorpidite. Poi attraversò a grandi passi la piazza, in direzione del vecchio cartello macchiato umido di rugiada. Oh maledizione! Non dimmi che è già passato! Alessandro si voltò. Era appena arrivato alla fermata. Ciao Marco! Marco, che frequentava per la terza volta il primo anno nello stesso liceo scientifico di Sant'Antioco, si accasciò sopra la panchina, piena di scritte colorate e pittoresche, situata a pochi metri dalla fermata. Sotto la panchina c'era di tutto, gomme da masticare e rinsecchite, matite spezzate, penne a sfera big scariche, schiacciate o esplose, mozziconi di sigaretta, accendini usaggette esauriti, pacchetti stritolati di malboro, bottigliette di succo di frutta, barattoli di coca cola ammaccati, foglietti di blocnotes appallotolati che maceravano in una pozza di pioggia infangata. Marco alzò lo sguardo, i suoi occhi erano infiammati. Ciao Alex, siamo rimasti a terra, eh? Distratto, Alessandro fissò l'ombra scura di una nuvola che scivolava sulla piazza, come una chiazza di petrolio sull'oceano. Non rispose. Marco si infagottò ancora più nel suo giubbino blu imbottito con piume d'oca. Poi gettò l'unico libro che aveva con sé, storia della letteratura latina, su un lato della panchina. Era evidente che la sua situazione scolastica non lo preoccupava più di tanto. Era figlio di casse integrati, nipote di braccianti agricoli e parente di nessuno. Per un ragazzo nato a Solus era l'equivalente di una condanna ai lavori forzati. Il suo futuro era la fabbrica e il cancro. Adesso che facciamo? Io me ne torno a casa. Ribattei Marco agitando un braccio. A casa? Certo, Alex, ho sonno arretrato. Una notte da leone. E beato te, io non posso proprio mancare oggi. Io non posso proprio mancare oggi. Perché? È compito in classe di geometria analitica. Cosa? E a che ti servirà? Per alare meglio i campi? No, non posso saltarlo. Mi rovinerebbe la media. Sospirando, come se stesse compiendo uno sforzo enorme, Marco si alzò, sorrise divertito e diede una pacca ad Alessandro. Bravo, Alex! Rovinarsi la media è come rovinarsi la vita. Sorrise di nuovo. Si massaggiò il collo rigido. Poi raccattò il suo libro sgualcito dalla panchina e lo infilò sotto il giubbino. Sei un ragazzo modello, Alex. L'orgoglio di Solus. Diede un'altra pacca ad Alessandro. Poi scoppiò a ridere. Marco! Sbottò lui con la faccia in fiamme. Sì? Vai a quel paese! Ci sono già, amico! Marco! Stizzito, Alessandro fece un rapido dietrofronte e cominciò a camminare lungo il bordo della piazza. Sopra di lui le fronde degli alberi si agitavano, come quelle dell'ulivo nel sogno. Alle sue spalle Marco sbottò, indignato. Ti sei offeso? Ehi, stavo scherzando! Cosa fai? Dove stai andando? Continuò a camminare imperterrito e infreddolito. Allora? Urlò Marco sopra il frusciare assordante dei rami. Alessandro si arrestò. Il vento si attenuò per un attimo. Il cupo frusciare diminuì. Preoccupato, Marco gracchiò. Vuoi rispondere? La risposta di Alessandro risuonò nella piazza deserta. Vado all'uscita a stoppare! Vado all'uscita a stoppare! Non posso mancare oggi! Per uscita, i ragazzi di solo si intendevano l'incrocio a T, il punto dove l'inizio del corso si intersecava con la 126 Ter. Marco amuto lì. Alessandro non aveva mai fatto l'autostop. Non ne aveva mai voluto sapere. Non gli piaceva quell'antiquato e inaffidabile sistema di trasporto gratuito. Eppure... Marco sollevò lo sguardo. Alessandro non c'era più. La piazza era vuota e spazzata dal vento. Doveva aver svoltato al primo angolo, dietro la tozza e bigia palazzina in stile fascista del municipio. Una scorciatoia. Perplesso, Marco sospirò una nuvola di vapore. Poi ritornò a casa, camminando con passo lento e strascicato per le vie ancora silenziose, profumate dall'odore elettrico della pioggia. Cinque minuti dopo, Alessandro, intirizzito, batteva i piedi sul ciglio della statale. Il braccio indolenzito e il pollice alzato. Alle sue spalle, oltre la cunetta piena di immondizie, la fascia di eucalipti, sferzata dal vento, sussurrava una tetralitania. Una lancia delta HF gli sfrecciò davanti, ignorandolo. Alessandro imprecò. Poteva andare bene al primo colpo? No. Due minuti più tardi andò a vuoto anche il secondo colpo. Una Citroen AX bianca, quasi nuova. Terzo colpo. Fiat tipo Selecta, grigio metallizzato. Niente da fare. Quarto colpo. Renault 5, blu sbiadito, sporca di fango. Prese in pieno una pozzanghera e lo schizzò d'acqua. Quinto colpo. Ford Fiesta nera. Tutti i vetri azzurrati. Nemmeno rallentò. Sesto colpo. Fiat Uno Fire. Rosso fuoco, smarmittata. Quasi lo travolgeva. Quando ormai Alessandro era rassegnato all'idea di dover saltare la scuola e il compito in classe, la prima senza in tre anni, dopo sedici colpi mancati, qualcuno si accorse di lui. Questo qualcuno guidava una Seat Ibiza Black. La Seat passò davanti al tremante pollice teso, sollevando enormi spruzzi d'acqua limacciosa dall'asfalto butterato come una grattugia. Sembrava volesse passare oltre, invece frenò la sua corsa a venti metri da Alessandro. Le quattro Goodyear si incollarono sul manto bagnato della sede stradale. Alessandro corse verso l'auto, sportiva e dotata di tutti gli optionals, inclusi i vetri oscurati, sguazzando fra le pozzanghere sulla banchina della statale. Frattanto il cielo sopra la sua testa era diventato nero e basso. L'acquazzone previsto dal servizio meteo non avrebbe aspettato il pomeriggio per scatenarsi. Quando si chinò sul finestrino destro della Seat, già cadevano le prime gocce. Il vetro si abbassò. La Seat aveva gli alzacristalli elettrici. Un optional costoso e inutile, pensò Alessandro, infilando la testa nell'abitacolo. Dietro al volante c'era un uomo sorridente, sulla quarantina, tarchiato e corpulento, con una corona di capelli brizzolati e riccioluti sopra grandi orecchie a sventola. «Salve, giovanotto! Dove devi andare?» «Sant'Antioco!» L'uomo annui, strinse le mani callose sul volante foderato in pelle nera e lo esaminò, come per valutarne la personalità. Poi si massaggiò pensoso la mascella coperta da una barba di tre giorni. «Come mai stai facendo l'autostop?» «Ho perso l'autobus.» «Alzato tardi, eh?» «Già.» L'uomo fissò per un breve istante il parabrezza solcato dalla pioggia, sovrapensiero. I suoi occhietti grigi, circondati da rughe, seguivano il movimento intermittente dei tergicristalli. Poi si voltò di nuovo verso Alessandro. «Salta dentro, svelto! Ti stai inzuppando!» «Salta dentro, svelto! Ti stai inzuppando!» Lui non se lo fece ripetere. Aprì lo sportello e si infilò nell'abitacolo odoroso di Pino Silvestre della Seat. Imbarazzato e anche un pochino a disagio, era la prima volta in assoluto che stoppava. Era la prima volta in assoluto che stoppava. Tenne lo zaino appoggiato sulle ginocchia. Tenne lo zaino appoggiato sulle ginocchia. La Seat ripartì di scatto, sgommando, lasciandosi alle spalle una scia d'acqua nebulizzata. Nello stesso istante la tempesta si scatenò, rovesciando sulla statale cascate di geli da pioggia. A parte il fastidioso, pungente e nauseante olezzo di pino sintetico diffuso da almeno una dozzina di arbre magica appesi e dondolanti in ogni angolo disponibile dell'automobile, la prima parte del tragitto andò bene. Le consuete chiacchiere banali tra il giovane autostoppista e l'automobilista generoso. Che scuola fai? Liceo o scientifico. Ah, io ho fatto solo la quintale mentare. Davvero? Mi basta saper leggere, scrivere e contare. Stamattina un mio amico mi ha detto che studiare non serve a nulla quando vivi da queste parti. Fatica sprecata. Stronzate. Lo penso anche io. Bravo. Io non ho studiato come ti ho detto, ma mi piace moltissimo leggere. Leggo di tutto. Fa bene al cervello. Non è come la tele. Allarga gli orizzonti. È quasi un miracolo. Lei vive a Solus. Non l'ho mai vista. Abito in periferia, prima delle colline. Vicino a Villa Massida. Vado mai in quella zona. Fai bene. È un brutto opposto per i soggetti impressionabili. Dopo quella serzione, senza mettere la freccia, il generoso automobilista svoltò in una stradina piena di squarci, battuta dalla pioggia, nascosta agli sguardi da massi di lentisco e cespugli spinosi di more selvatiche. Da questi ultimi sporgeva, appeso a un tubo corroso dalla ruggine, un cartello con scritto divieto di caccia. Il lamirino dondolava nel vento come una banderuola, costellato di buchi lasciati dai pallettoni. Oh, ma cosa sta facendo? Una deviazione, rispose lui senza l'ombra di un sorriso. L'uomo frenò, girò la chiave e spense il motore. Alessandro mollò lo zaino e tentò di aprire lo sportello. Non ci riuscì. Era bloccato. L'uomo si voltò verso di lui. L'espressione della sua faccia raggrinzita e bruciata dal sole non tradiva la minima emozione. Alessandro urlò e continuò ad armeggiare con la sicura dello sportello. Non riusciva a sollevarla. Gli fuggiva sempre di mano. Dopo qualche secondo di panico, Alessandro cominciò a battere i pugni sul vetro coperto di pioggia sporca di sabbia. Che c'è, ragazzo? Alessandro gridò, tirò la maniglia dello sportello e si dibatté sul sedile. Non serviva a nulla, ma non riusciva a smettere. L'uomo parlò di nuovo. La sua voce adesso era rauca. Paura? Domanda retorica. Alessandro continuò a strattonare la maniglia e a battere con il pugno sul vetro. Urlò e pianse. Il terrore arrivò così rapido da fargli perdere la ragione. Questa cosa non stava succedendo. L'uomo osservò, cinico come un entomologo, il panico del suo giovane prigioniero. Era sempre il momento che preferiva. Smettila! Sibirò, seduto di sbieco sul sedile, accostando le labbra al suo orecchio. Il suo fiato era infuocato. Non puoi aprirlo. Ho la chiusura centralizzata e i vetri antiproiettili. Mi piacciono gli optionals. Quest'auto mi è costata un occhio. Il ragazzino si divincolò come un indemoniato davanti allo sportello blindato, controllato da una centralina dissimulata sotto il cruscotto lucidato. Poi, improvvisamente, dopo alcuni interminabili minuti di folle terrore, non si mosse più. Così va meglio. Adesso spogliati. Alessandro si girò verso l'uomo senza nome che lo teneva in trappola. La faccia bianca come un piatto di porcellana, i capelli incollati a ciocche sulla fronte. I suoi occhi erano lucidi. No! Cosa vuoi? Sei un pedofilo! L'uomo si leccò le labbra. Non voglio sporcare i vestiti. Lasciami andare! Lasciami andare! Non dirò niente a nessuno, lo giuro! Non lo sai che i giuramenti li fanno soltanto i bugiardi? Mi lasci uscire dalla macchina, per favore! Non posso farlo. Ammise l'uomo scuotendo il capo con voce strozzata. Sto costruendo una stanzetta speciale, proprio per evitare situazioni come questa. Ma non l'ho ancora finita. A questo punto, Alessandro capì tutto. Sei il serial killer! Strepitò, sgomento, riattaccandosi alla maniglia. Quello che uccide tutta quella gente è Assolus! Parli troppo! Replicò l'uomo infilando il braccio nello spazio tra i sedili. Qui dietro c'è qualcosa che ti farà stare zitto. L'istante seguente, un martello strappachiodi da carpentiere piombò con violenza sulla nuca di Alessandro, fradicia di sudore. L'impatto distruttivo risuonò come quello di un'asse spezzata. Il metallo si conficcò nel cervello, riempendolo di affilate e micidiali schegge d'osso. Nonostante la ristrettezza dell'abitacolo, l'uomo riuscì a imprimere una forza tale da far ruotare la testa del ragazzo di 180 gradi. Sul parabrezza iniziò a collare una grossa patacca di sangue. L'uomo osservò la macchia, con il viso picchiettato di rosso. Se fosse stato uno di quei test psichiatrici, uno di quelli che i dottori in camice gli facevano spesso quando era ragazzino, avrebbe probabilmente risposto «è una falena». Nessuno però gli diceva mai se aveva sbagliato o no. Sant'Antioco, ore 8 e 30, classe terza C. Nel freddo stanzone, illuminato dai palpitanti tubi al neon, impera un silenzio pieno di bisbigli. La prof di matematica, una vecchietta che somiglia a Jessica Fletcher, gli occhiali da lettura, comprati in farmacia in birico sul nasone, sta facendo l'appello. Su tutti i banchi sono posati un foglio protocollo a quadretti, l'economica calcolatrice scientifica Casio, la grossa penna a sfera bica a quattro colori, la matita Faber tipo B, le squadrette spuntate, il solito compasso sbilenco, ereditato dai fratelli maggiori o dagli zii più giovani, che non rimane mai fisso in una posizione stabile, qualunque essa sia, facendoti sbagliare tutte le circonferenze. Chiamala prof con tono annoiato, già a quell'ora. Presente Locci Presente Mereu Presente Satta Nessuna risposta Il primo banco, quello accanto alla finestra, è vuoto. Un'assenza strategica Dichiara la prof all'intera classe, gongolando. Furbo, così non rischia di rovinarsi la media. Tutti ridono. Capitolo 24 Il cubo La resata finale è la parte peggiore della visione. Recheggia a lungo dentro la bolla e rimbalza beffarda sulla sua superficie traslucida, come a sottolineare il vero significato di quella storia crudele. Non c'è pietà, compassione o empatia. Raggomitolato in te stesso, invochi qualsiasi cosa, terrena o trascendente, affinché quella raffinata tortura psicologica cessi prima possibile. Non preghi da molto tempo, ormai, ma le parole fluiscono senza impedimenti, come se non avessi fatto nient'altro in questi anni. Ma è tutto inutile, naturalmente. Nessuno ti ascolta. L'effetto, anzi, è contrario. Con uno schiocco liquido, la bolla perde la sua trasparenza, cambia forma e diventa un cubo. Un perfetto cubo bianco, senza traccia di giunzioni. Quelle sei facciate ti fanno sentire ancora più male. È come trovarsi dentro la settica cella di una prigione futuristica e... lunedì, maledetto, diario. Quando le parole iniziano a scorrere sulle pareti laterali, simili a un video wall, non puoi fare a meno di leggerle. Il loro flusso ipnotico sequestra senza scampo la tua attenzione.